Nell'arte torinese fra le due guerre mondiali un episodio importante è stato quello dell'arrivo di sette opere di Amedeo Modigliani nella collezione di Riccardo Gualino. Era un personaggio che si conosceva ovviamente, ma che era destinato a lasciare un forte segno anche nell'arte degli artisti torinesi dell'epoca. Quest'opera non apparteneva alla collezione Gualino, arriva in un altro momento ma andava bene messa in confronto appunto alla loro interpretazione, la più evidente questa di questo quadro, questo nudo e disteso di Francesco Menzio in cui la lettura di Modigliani è proprio ricercata, insistita, c'è proprio una volontà di confrontarsi con l'avanguardia parigina dopo l'elezione di Casorati.